Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti a quello che è il nostro unboxing del Samsung Galaxy Core 2 uno dei tanti dispositivi della serie Galaxy, in particolare il secondo modello della serie Galaxy Core quindi un dispositivo low cost con caratteristiche tecniche effettivamente molto scarse nello specifico abbiamo una CPU quad core a 1.2 GHz, una fotocamera frontale VGA una fotocamera posteriore da 5 megapixel, GPS, batteria da 2000 mAh e navigazione come vedete fino a 21 Mbit al secondo le dimensioni sono ristrette, abbiamo quindi infatti un display da soli 4.5 pollici di diagonale in questo video quindi proseguiremo nell'unboxing e quindi mostrandovi tutto il contenuto della confezione originale successivamente invece vi parleremo delle nostre impressioni nella futura recensione vedete che la confezione è standard di Samsung quindi in cartone riciclabile rimuoviamo la linguetta e provvediamo immediatamente a mostrarvi qual è il contenuto della confezione aprendo la scatola qui troviamo immediatamente il terminale vedete nel nostro caso di colorazione nera ma comunque ricordatevi che è disponibile anche in colorazione bianca allora il dispositivo come ho detto presenta un display da 4.5 pollici di diagonale con in particolare il tasto centrale famoso di Samsung cover posteriore in plastica, plastica ruvida, fotocamera posteriore al centro, flash led e alto parlante qui invece troviamo jack da 3.5 mm e micro usb per naturalmente collegarlo al computer viceversa ricordatevi inoltre che cover posteriore rimovibile e naturalmente è un single sim con la necessità di installarvi una micro sim come vedete infatti le dimensioni come abbiamo detto anche in precedenza sono veramente ridotte parliamo infatti di un display da 4.5 pollici ed uno spessore non troppo interessante proseguendo nell'unboxing comunque abbiamo oltre allo smartphone vero e proprio abbiamo rimuovendo questa parte tutta la manualistica del caso poi le famose cuffiette per ascoltare la musica e parlare in mobilità un cavo micro usb to usb per collegare il terminale all'alimentatore da parete o comunque al computer nel caso di Samsung dato che comunque ci troviamo di fronte ad uno smartphone low cost abbiamo comunque anche l'alimentatore da parete con già il cavo micro usb viceversa ricordatevi che questo cavo può essere tranquillamente utilizzato anche per ricaricarlo basta avere uno dei normali alimentatori senza con il buco diciamo per la presa usb poi proseguendo nell'unboxing troviamo batteria interna batteria interna in particolare vi faccio vedere da naturalmente 3.8 volte e da soli 2000 mAh quindi avete visto il contenuto della confezione è molto ricco e in pratica in linea con quanto Samsung solitamente ci ha abituati ora non ci resta che provare il terminale e parlarvi delle nostre impressioni in futuro grazie a tutti